A casa di Ale racconta i podcast del blog alessandropellizzari.com. In questa puntata vi parlerò di come stanno cambiando le storie fra amanti andando verso il nuovo anno, verso il 2023 ed essendo passate attraverso il lungo periodo della pandemia. Direi che il titolo di questa puntata potrebbe essere Il trionfo dell'amante stampella e adesso vi spiegherò perché. Intanto ci sono dei dati a cui voglio fare riferimento perché, come sapete, il mio metodo è quello che io chiamo epidemiologia di coppia. Quindi io mi baso sempre quando vi racconto dei trend su fonti più o meno estese, più o meno nuove, importanti o che si ripetono. Intanto la prima cosa da dire è che c'è stato un aumento delle separazioni dopo il Covid. Siamo sul 35% per cui i vari avvocati che si occupano di divorzi e di separazioni mi hanno confermato che questo è un trend in ascesa. Molte coppie con la convivenza forzata sono scoppiate. Però ultimamente mi è arrivato un comunicato stampa dove si presentavano i dati che devo dire interessanti di un survey che ha fatto di una ricerca, quindi di un'indagine che ha fatto Ashley Madison, che è questo sito di incontri internazionale che prevede solo incontri extraconiugali. Cioè i frequentatori di questo sito, ce ne sono tanti, ma questo è uno di quelli più attivi, appunto più internazionali, sono tutte persone che cercano una relazione extraconiugale. Che cosa dice questa indagine? Tra i dati dell'indagine stessa spiccano i seguenti. Quasi il 40% degli intervistati ha visto un cambiamento negativo nella propria relazione primaria. E questo mi sembra in linea con l'aumento delle separazioni, cioè con l'aumento delle tensioni pandemiche all'interno delle coppie. Da una parte la coppia si è chiusa a riccio per difendersi dal pericolo esterno, questo soprattutto all'inizio, ma poi piano piano quando si è visto che il Covid diventava, fra virgolette, la normalità, certe convivenze, tamponi, lavoro in remoto, dad dei figli, hanno creato ulteriori tensioni e convivenze. Ho sempre detto che la coppia in crisi scoppia durante le vacanze, proprio perché di colpo si trova a una convivenza forzata e prolungata che non è normale quando si lavora e si hanno le cose da fare durante la settimana normalmente. Però l'indagine di Ashley Madison dice anche che nonostante il periodo difficile, tre persone su quattro non divorzierebbero mai dal consorte per motivi finanziari. Ecco un altro elemento sociale molto importante che dimostra che un conto è quello che si vorrebbe fare e un conto è quello che è la realtà. E la realtà fra Covid, casse integrazioni, licenziamenti, fallimenti, chiusure di esercizi e adesso crisi energetica e guerra danno molto da pensare da un punto di vista finanziario. Per cui affrontare una separazione che è anche comunque costosa da molti punti di vista, oltre che da quello emotivo, deve fare i conti con un altro peso importante sulla bilancia, che è quello economico, anche come paura economica. Continua l'indagine dicendo che il 72% di chi ha risposto alla ricerca afferma di essere stato condizionato dall'andamento economico del momento. Quindi la stragrande maggioranza che avrebbe anche voluto far saltare il banco si è fermato di fronte all'andamento economico del momento. Infine, l'84% dei membri della piattaforma di Lava Fair extra coniugali considera il partner secondario, quindi l'amante, una forma di terapia personale. Questo è molto importante e mi fa ricollegare a quello che io avevo messo come titolo di questa puntata su come stanno cambiando le storie fra amanti, e cioè il trionfo dell'amante stampella. Il 20% degli intervistati aggiunge che una soddisfacente Lava Fair extra coniugale è il primo fattore che concorre al miglioramento del benessere emotivo. In primis le donne, 25% lo afferma, e poi gli uomini, 19%. Quindi davvero sembrerebbe da questi dati il trionfo della soluzione più gettonata dagli italiani per gestire un matrimonio asfittico senza separarsi. Quindi come vedete il trionfo dell'amante stampella, cioè di quel tipo di amante duraturo, l'amante stampella dura più di un anno, in media due, tre anni, che è quella persona che si affianca al matrimonio senza distruggerlo, ma anzi lo sostiene da più punti di vista perché diventa la psicologa personale di chi tradisce, diventa lo sfogo sessuale di alto livello di chi tradisce, diventa la confidente, diventa molto spesso è già una persona con cui si lavora insieme, quindi una partner lavorativa. Rappresenta un'assicurazione psicologica e emotiva oltre che uno sfogo sessuale e, come dire, di tipo ludico. Questo però ha un problema, che l'amante stampella diventa e sta diventando sempre di più un secondo matrimonio e si sta diffondendo sempre di più perché dal mio osservatorio, e questi dati di Ashley Madison mi colpiscono proprio perché sono in linea con quello che io vedo fra blog, miei social, counseling e storie delle mie lettrici, e quindi si sta consolidando questa sorta di matrimonio parallelo a moltissimi matrimoni ufficiali. Chi ne paga le spese però? Evidentemente non ne paga le spese, anche se i divorzi stanno aumentando leggermente, non ne paga le spese il matrimonio ufficiale. Il matrimonio ufficiale, anzi, molto spesso sta in piedi e dì perché dall'altra parte c'è un amante che fa sfogare chi è scontento di stare nel matrimonio. Io trovo nell'amante l'appoggio psicologico, il sesso di qualità, la confidenza che non ho più in casa. Il problema è che in casa non tutte le situazioni, anzi solo una minoranza delle situazioni, è da guerra dei rosis, con piatti che volano e urlate quotidiane. Molti di questi matrimoni che sopravvivono anche grazie all'amante stampella sono matrimoni che hanno quella che io chiamo un'affettuosa routine di serenità. Ci sono rapporti sessuali? Sì, ci sono rapporti sessuali che sono rari, nel senso che la media è di un rapporto sessuale al mese o uno ogni due mesi. Sono standard, si fanno sempre quelle due o tre cose che amano i coniugi, di solito sono abbastanza rapidi e anche ripetitivi nelle posizioni e nei giochi, a volte non ci sono neanche preliminari. Molti assomigliano più a delle sveltine, a uno scarico diciamo. Poi c'è chi lo fa per dovere e si accontenta, magari non ne ha tanta voglia. Ci sono le donne che simulano l'orgasmo e poi c'è l'uomo che esercita anche i suoi doveri coniugali. Ma poi questi matrimoni in crisi, perché comunque hanno subito un tradimento o più tradimenti, comunque hanno una loro routine. Sono matrimoni azienda, dove c'è un entourage importante di parenti e amici che vengono frequentati dalla coppia. Ci sono i figli in crescita, ci sono tutti i momenti sociali condivisi dalla coppia stessa. Il divano sarà anche noioso davanti alla tv, ognuno si fa gli affari suoi, ma comunque si è seduti insieme, si dorme nello stesso letto. E così soprattutto un uomo può andare avanti per anni. Anche e soprattutto perché se ha voglia di fare del sesso vero, c'è l'amante stampella. Se ha voglia di sfogarsi con qualcuno perché in ufficio sta andando male, c'è l'amante stampella. Se ha voglia di farsi un weekend fuori porta senza la moglie in maniera adrenalinica e più piacevole, c'è l'amante stampella. Ma questa amante stampella che sta trionfando ha un effetto collaterale perché l'amante stampella funziona per sei mesi, massimo un anno. Questo sembra in contraddizione con quello che io ho detto perché mediamente un'amante stampella può durare fino a tre anni e anche più. Da uno a tre anni mediamente e statisticamente secondo la mia epidemiologia di coppia. Il problema qual è? È che dopo i sei mesi, un anno, uno dei due che fanno parte dell'amantato si innamora veramente e di solito è la donna. L'altro o crede di innamorarsi o si innamora ma. Ricordatevi che gli uomini riescono a declinare il ti amo e l'innamoramento, sono innamorato di te, con delle graduatorie da uno a dieci. Per la donna esiste solo il dieci. La donna se è innamorata è dieci, non è nove, non è otto, è dieci, è tutto, è innamorata e basta. E lo dimostra molto spesso perché le donne innamorate smettono di avere rapporti, loro sì, davvero rapporti sessuali con il coniuge proprio perché amano un'altra persona. Mentre l'innamorato amante maschio continua ad avere la sua routine in casa. E dice all'amata, a volte ci crede anche, di essere innamoratissimo di lei e di essere anche pronto a, prima o poi, al momento giusto, diciamo, a lasciare il matrimonio precedente. Sogna fra progetti, illude l'altra parte e la illude anche quando sta dentro di lui e molti uomini lo sanno dentro, che cosa faranno effettivamente, ma prendono tempo perché è tanto bello viversi l'amantato stampella, è tanto bello avere l'atto familiare in garage e la moto pronta per fare le corse in montagna, nascosta poco distante da casa. Continuano così e finché a un certo punto, chiaramente, mentre uno è innamorato veramente e quindi vuole quagliare, l'altro anche se dice, certo voglio quagliare anch'io, in realtà non risponde sì, ma è un nì. Per l'uomo la stampella poi è così preziosa che è disposto a sopportare anche le vostre lagne. Quanti dei vostri uomini di fronte è, ma tu quanto ti decidi, quando è che ti separi, quando è che le parli, ma le hai parlato, ma parli sempre di questo matrimonio disastroso e poi noi siamo ancora qua a nasconderci, a vederci part time, a non poterci fare delle vacanze insieme, a fare tutta una serie di cose che sono proibite e lui sopporta, dice, vedrai, dammi tempo, aiutami. Insomma, l'uomo prende tempo. Questa è la tattica maschile del mulinello. Per chi non è mai andato a pescare, il mulinello è quell'aggeggio attaccato alla lenza, alla canna da pesca, che serve a ritirare la lenza quando vuole portare il pesce verso di sé, o a lasciarlo andare quando vuole lanciare in avanti l'esca, o lasciare che il pesce prenda un po' un abbrivio per stancarsi, dare al pesce questa, come dire, idea di essere libero per poi riprendere e ritirare il pesce verso di sé. Quindi, da una parte, l'uomo che cosa fa? Quando lascia andare il mulinello, sembra che dia spazio alla donna, parla di amicizia, parla di dammi tempo e poi, quando torna e vi fa interrompere il codice del silenzio, il no contact, riavvolge il mulinello e molto spesso vi ripesca. E questo è un grosso problema. Fa parte di quello che io chiamo il calvario dell'amante part-time e soprattutto dell'amante stampella. Perché un conto è se gli amanti stampella vogliono stampellare i propri matrimoni tutti e due, quindi hanno lo stesso obiettivo. Io non lascerò mai mio marito, però ho bisogno di un amante stampella, cioè di un secondo matrimonio parallelo. Io non lascerò mai mia moglie, però ho bisogno. Ma quando uno dei due si innamora, vuole quagliare, oppure è single e quindi vuole costruirsi una coppia con il proprio amante, questa cosa non funziona e diventa un calvario. In definitiva, qual è il mio consiglio? Se siete delle amanti, stampella. Mollare prima che tutto ciò si trasformi in impegno e quindi si inizia a programmare e a costruire e questa costruzione va avanti col freno a mano tirato. Un amante stampella si accorge nel corso soprattutto del secondo anno se lui sta facendo veramente i passi che deve fare verso la separazione o se tutto rimane come immobile, con piccoli passi avanti, con fumo negli occhi e con strategie e soprattutto con la tecnica appunto del mulimnello. Ti tiro verso di me perché ti prometto di comprare una casa assieme, poi ti lascio andare perché devo andare a fare le vacanze con mia moglie e devo stare tranquillo con lei. L'altro consiglio è o si molla al momento in cui si vede che lui non ha nessuna intenzione di andare verso la separazione, quindi tutte le varie promesse erano promesse da marinaio, oppure se lui è debole, se lui tentenna però pensate che ci possa essere un investimento verso la separazione, deve essere fatto un programma di separazione con una data finale delle tappe decisive, quella che io chiamo famosa road map. La road map è un percorso condiviso che dura massimo un anno, che ha una data di partenza, da adesso in poi mettiamo in atto tutta una serie di tappe che ti porteranno alla separazione e una data finale, massimo un anno, in cui avverrà il tutto. Questa road map prevede tutta una serie di tappe che vanno verificate, perché ci sono tanti furbetti che dicono sì lo faccio e lo faccio all'ultimo momento, ma non esiste farlo all'ultimo momento, perché una road map prevede di parlare con l'avvocato, di parlare col commercialista, di coinvolgere uno psicoterapeuta, per parlare con la moglie, ma non per ricostruire il matrimonio, ma per trovare un linguaggio, un punto di incontro soprattutto per i figli. La psicoterapia serve anche poi per parlare con i figli. Bisogna trovare una casa dove andare, perché nel momento in cui si parla alla moglie, chiaramente quasi nessuno confessa di avere un amante, però nel momento in cui uno dice sono in crisi, io non ti amo più, questo matrimonio non funziona per questo, questo, questo motivo, potrebbe anche trovarsi di fonte alla richiesta di uscire di casa e chi vuole fare questo percorso seriamente, una casa se ne deve aver già trovata, individuata e deve essere pronta, perché non è che si va dalla mamma o dall'amico o in un bed and breakfast temporaneamente per fare le cose seriamente. Poi c'è l'avvocato, poi ci sono le carte, le discussioni, gli alimenti finché non si arriva a quagliare e quindi a costruire la nuova coppia. Chi ha veramente intenzione di separarsi fa la roadmap. Io paragono sempre per gli uomini la roadmap come l'acquisto di una macchina importante, un acquisto importante. Non vai a comprare una macchina senza aver fatto prima, senza essere andata a vederla, provarla, passati diversi concessionari, fatti diversi preventivi e fatti test drive. Se un uomo non fa niente di tutto questo significa che la macchina non la comprerà mai. Ma anche se un uomo prende troppo tempo e ci mette troppo tempo a scegliere la macchina vuol dire anche lì la macchina non la comprerà mai. Attenzione, non fatevi gappare dalla storia dell'amicizia perché l'amicizia fa parte del trucco del mulinello. Quando la coppia di amanti stampella è in crisi, una delle cose che si usa lasciando andare il pesce un pochino più lontano ma tenendolo sempre al mulinello è la storia dell'amicizia. Almeno rimaniamo amici dopo tutto quello che c'è stato fra di noi. L'amicizia fra amanti non esiste, è solo un modo che usano gli uomini per lasciarvi o farsi lasciare in maniera meno drammatica oppure per lasciarsi una porta socchiusa per rientrare nel vostro mondo quando la moglie si sarà acquietata, se aveva alzato le antenne e aveva sentito odore di bruciato o quando avrà finito di fare le vacanze. Aggiungo che una roadmap può durare massimo un anno ma mediamente sei mesi. Le roadmap di solito dicono questo è l'ultimo Natale che passeremo divisi, questa è l'ultima estate che passeremo divisi. Le vacanze, le grandi vacanze di famiglia sono le ruote di giro, i giri di boa importanti su cui deve succedere qualche cosa. Ogni volta che non succede niente, il calvario dell'amante Stampella peggiora. Bene, era tutto per questa puntata di A casa di Ale racconta. Vi voglio ricordare che il mio nuovo libro Love Advisor con ben 30 profili di uomini da evitare o da sposare, ci sono anche quelli positivi, con la descrizione di come conosce, di cosa dicono, cosa pensano veramente e anche le storie delle lettrici e anche di qualche lettore che ci sono passati già con questi profili. Il libro Love Advisor è in libreria o già acquistabile online. Aggiungo che vi aspetto tutte numerose martedì 8 novembre alle 18.15 a Milano presso la libreria Mondadori, il famoso Mondadori Store che c'è in Piazza Duomo per raccontarvi il nuovo libro insieme a Maurizio Belpietro che ha scritto la prefazione, insieme al direttore di Starbene Francesca Pietra che modererà l'incontro, Amaretti Editore, il coeditore di questa edizione, chiaramente sarò a vostra disposizione per salutarvi e per firmare le copie che troverete lì o che vi porterete dietro se le avete già acquistate. Bene ragazze, era a casa di Ale racconta, alla prossima puntata. Grazie. Grazie.